Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, che la Tua parola risuone nei nostri cuori. Vogliamo ascoltare Te che ci parli. Vogliamo oggi ricevere una rivelazione del Tuo mondo, del mondo dello Spirito. Ne abbiamo così tanto bisogno, Signore. Nel nostro mondo naturale, così rovinato dai peccati e tante altre cose brutte, rivela-ti col mondo Tuo soprannaturale, santo, potente, immortale e incorrottibile. Guadisci le nostre orecchie, Signore, perché il nostro udito spirituale sia in grado di percepire la Tua voce che ci parla attraverso tutte le cose che saranno dette. Padre Santo, che sin dall'inizio hai creato l'universo attraverso la Tua parola, crea in noi la vita nuova con la Tua parola. Parlo questa sera, te lo chiediamo, per Cristo Gesù, nostro Signore. Benissimo. La volta scorsa abbiamo visto la storia di Babele. Abbiamo visto come Babele sia il parallelo della storia di Damo e Deva, però Damo e Deva è un peccato di singoli. Babele è un peccato comunitario. Quindi esistono peccati singoli, esistono peccati comunitari. La storia ne è piena. E esiste una salvezza singola, esiste una salvezza comunitaria. La corrispettiva del Nuovo Testamento della salvezza per il popolo, la salvezza comunitaria, la Pentecoste, quando Dio fa il perfetto contrario di quello che fece per punire il popolo di Babele, il peccatore di essersi insupervito e di essere al di sopra di Dio. Dio confuse le lingue e nessuno poté più capirsi. E invece con la Pentecoste, tutti si capiscono, anche se parlano lingue diverse, perché lo Spirito Santo è principio di comunione e permetteva a tutti di intendersi. E quanto è oggi necessario lo Spirito Santo per poter proprio intendersi, non solo e non tanto quando si parla una lingua straniere a livello di inglese, francese, tedesco, russo, eccetera, eccetera, ma proprio a livello di persone, anche se si parla la stessa lingua, l'italiano, il problema della comprensione, del capirsi reciproco, è uno dei problemi fondamentali della resistenza. Adesso proseguiamo in questa lettura biblica, vedete come qua siamo il libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, e vedete come già in questo libro ci stanno i fondamenti per la fede e per la vita nostra, tutti i giorni. Cominceremo questa sera la storia di Abramo, che per sommi capi la conosciamo, ma vi assicuro che è molto più impegnativa e profonda di quello che siamo abituati a sapere di lui. Allora, così brevemente, Genesi capitolo 12, per tutti quanti la Bibbia, intanto salutiamo Pasqualina, che si è unita da casa, con gli altri quattro, che stanno in contatto da casa. Il Signore disse ad Abramo, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione, e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno, maledirò, e in te si danno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abramo partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abramo aveva 75 anni, quando lasciò Carran. Abramo prese la moglie di Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, quindi Lot era suo nipote, e tutti i beni che avevano acquistati, in Carran, e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan, ed Abramo la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di Moreh. Nella terra si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparva ad Abramo e gli disse, Alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Abramo costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel, e piantò la tenda, avendo Betel a occidente, e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore, e invocò il nome del Signore. Poi Abramo levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Questo leggiamo. Per avere un'idea, anche geografica, di che cosa sta succedendo, noi andiamo alle cartine. Avete la Bibbia di Jerusalem con le cartine? Sì o no? Ecco, se ce l'avete, prendete queste cartine, e vedete ci sta al Medio Oriente la storia dell'articolo del Stamento. Questa è una Bibbia di Jerusalem, qui non ci sono, voi ce l'avete. Trovate Ur dei Caldei, dove era il paese di Abramo. si trova in mezzo al Tigri, all'Eofrate, questi due grandi fiumi dell'antichità che tuttora esistono, meravigliosi. E vedete quanto è distante questo dalla Palestina. E che cammino deve fare Abramo per seguire la parola del Signore. Bene. Allora, vediamo la situazione di Abramo quando parte. Abramo quando incontra Dio, quando ascolta la sua parola, lo conosceva già Dio? Ponte di reticolo. No. E si manifesta per la prima volta in questa occasione. Quindi lui non era come sarebbe stato in futuro i pochi italiani monoteista. Era invece come erano gli altri del suo popolo politeista. Che significa? Che credeva in più dei. Dio, quello unico e vero e di conseguenza gli altri dei, quelli che lui credeva come falsi, lo scoprì in questa occasione. Quando Dio si rivelò. quindi Abramo prima che fare un cammino di chilometri con i passi e con gli animali ha fatto un cammino interiore. Ha conosciuto cose che nella sua età 75 anni non ha mai scoperto nella vita. È entrato a prendere possesso di dimensioni di vita spirituale magnifiche, gloriose, una cosa eccezionale per lui e per la sua famiglia. E questo è molto importante per quale motivo? Perché la situazione di partenza di Abramo è perfettamente la stessa della stragrande maggioranza delle persone. L'essere politeisti cioè il credere in molti dei è quello che avviene comunemente. Quali sono gli dei delle persone? Per Dio intendiamo la realtà che è al centro del nostro essere il punto di arrivo del nostro cammino quella meta che ci siamo prefissi di raggiungere. Allora per lo sportivo il suo Dio la meta che lui vuole raggiungere è la coppa del mondo la medaglia d'ora e le Olimpiadi per l'attore e l'attrice è il successo per il politico è il potere per quello che lavora nel mondo dell'impenditoriale è il successo economico i soldi per il giovane che si droga con i ristoranti stupefacenti è il piacere del corpo e così via un Dio ma la maggior parte di volte è più dei con menta e non vuole quello 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 e quell'altro uno vuole il piacere del corpo ma vuole anche i soldi ma vuole anche questo il Dio al quale facciamo riferimento normalmente è un Dio fatto di molte persone molti dei ai quali noi prestiamo servizio con tutti noi stessi li adoriamo il termine adorazione è il termine che si usa nella Bibbia esclusivamente per Dio noi adoriamo queste realtà come i nostri dei Abramo faceva lo stesso aveva più dei il Dio unico e vero non lo conosceva è Dio che li si manifesta questo è importante Dio gli viene incontro Dio non lo lascia nella sua situazione di politeismo nella sua situazione umana di padre mancato e di uomo senza terra comincia quindi per Abramo una cosa che si chiama la conoscenza di Dio e che sviluppando si diventerà la fede Abramo non è conosciuto per la carità verso i poveri è conosciuto per la fede lui ha fatto un cammino di anni il suo cammino di anni un cammino spirituale è cominciato a 75 anni non è cominciato a 10 anni a 5 anni ha fatto il cammino spirituale da 75 anni in poi e questo cammino lo ha reso credente in una maniera così forte così profonda così radicale così efficace così importante che Abramo sarà padre della fede di tutti quanti noi che oggi crediamo forse senza accogliercene crediamo nella fede di Abramo con la fede di Abramo e vediamo un po' se questo non è vero e vediamo i passi della fede allora il capitolo di partenza di Abramo è politeista quindi spiritualmente non conosce Dio umanamente parlando era un uomo sposato senza figli e a quei tempi è sempre una tremenda sofferenza la mancanza della discendenza ma a quei tempi era ancora più grave che oggi perché non avere figli significa che il proprio nome la propria identità finiva con la propria morte non c'era una discendenza non si prolungava la vita del genitore e dei figli finiva lì quindi era la fine di tutto e non aveva neanche una sua terra dove veniva seppellito su qualche strada era proprio uno sfacelo questa quetatizzazione che cosa succede? Dio fa una cosa doppia interviene per la parte materiale cioè la mancanta dei figli e la mancanta della terra promettendogliela si propone come colui che darà ad Abramo quello che gli serviva però nello stesso tempo lui comincia a curare la parte spirituale di Abramo facendosi conoscere a lui e chiamando Abramo a fare un cammino di fede Dio allora si rivela ad Abramo guardate nel versetto 4 c'è il racconto di una visione nel versetto 1 non c'è una visione Dio parla ad Abramo lui Abramo ha contatto con Dio attraverso la parola noi stasera abbiamo contatto con Dio attraverso la parola non attraverso un'altra cosa e la parola che noi stiamo ascoltando voi ascoltate abbiamo letto una parola scritta quella della Bibbia e i nostri decchi ascoltano una parola verbale quella di Don Marco ma io Don Marco non conto la carta stampata non conta chi ha scritto questa cosa conta Dio che parla attraverso quello che ha scritto questa carta stampata attraverso Don Marco che parla Dio che parla parola di Dio per noi allora Dio quando parla non fa un tocco di bacchetta magica la moglie di Abramo Sara c'ha il braccio del bambino e di là c'è la terra pronta per lui no gli fa una promessa parti lascia la casa del tuo padre vai verso la casa che io ti indicherò verso la terra che io ti indicherò e ti farò grande tu hai una benedizione in te si daranno a benedetti tutte le famiglie della terra la benedizione riguarda la terra e il figlio per Abramo ma è una cosa che non ha l'editazione nel presente ma nel futuro questa è una cosa grande questa cosa qui Dio ci chiama a credere in una cosa che si realizza nel tempo nel futuro e quando Abramo parte non sa quando queste promesse si sarebbero realizzate Dio non gli dice guarda fra cinque anni e tre mesi tu avrai un figlio tra le braccia fai 5325 chilometri vai a destra di quella e la terra è pronta per te non glielo dice dice parti vai verso la terra che io ti indicherò e poi ti benedirò e attraverso di te saranno benedetti tutte le famiglie della terra il figlio e la discendenza allora Abramo e la fede non si poggia su quello che uno già vede e già tocca ma si poggia sul futuro su quello che deve succedere in base alla promessa di Dio se Dio ci dice io ti farò questa grazia che cosa succede? se noi non la crediamo sembrava non avesse creduto non sarebbe neanche partito dalla sua città e dalla sua famiglia d'origine se ne stava con i suoi vecchietti e moriva lì non avrebbe avuto un figlio non avrebbe avuto una terra non sarebbe successo nessuna storia di far detta per nessuno la sua vita si come si dice avrebbe continuato a esistere solo sul piano umano e il primo insoddisfatto della sua esistenza sarebbe stato proprio lui Dio ha chiamato Abramo a fare un cammino ha fatto una promessa io ti darò questo siccome ha creduto è partito è andato dietro alla promessa di Dio che significa che lui ogni giorno in tutti quei giorni settimane mesi e anni che camminava lui aveva sempre dentro di sé questa promessa la teneva stretta la doveva credere sempre di più sempre meglio fino a quando si sarebbe realizzata questa è la fede affermare la parola di Dio e tenerla stretta fin quando non si realizza credo che tu mi darai un figlio credo che tu mi darei una terra non ce l'ho tu me l'hai detto me lo darai ma la certezza interiore che quello che Dio dice si realizza a differenza di quello che noi promettiamo in questo mondo che non si realizza quasi mai chi ce la dà questa certezza non bisogna proprio fare il perfetto contrario di quello che ha fatto Adamo che ha messo in dubbio anzi ha creduto bugiarda alla parola di Dio quando Dio gli disse che se avesse mangiato il frutto di quell'albero sarebbe morto lui ha creduto invece che Dio gli ha tenuto nascosto che sarebbe diventato un conoscitore della vita della morte che sarebbe diventato mangiando quell'albero come Dio e allora l'ha mangiato e rimasto fregato Abramo sta facendo il contrario di quello che ha fatto Adamo Adamo non ha creduto a quello che Dio gli aveva detto Abramo deve cominciare a crederci noi tutti siamo chiamati a cominciare a credere a quello che Dio ci promette e ci dice questa è una cosa molto seria e molto importante Dio non è mai bugiardo Dio non è come siamo fatti noi Dio quando dice una cosa può passare come dice Gesù Cristo i cieli e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno si realizzeranno punto e basta chi di noi ha una fede così piena nella parola di Dio che sarebbe disposto come Abramo a passare mari e monti ad aspettare a passare prove che succeda quello che succeda perché tanto questa parola si realizza Dio quando è che gli gusta di avere un figlio quando lui vede che uno gli crede veramente anche quando è messo in croce anche quando la sua fede è messa la prova per questo il cammino di fede di Abramo lui non lo troveva in patenza ma è lungo e dovrà attraversare delle prove e una volta attraversate quelle prove avverranno le cose più grandi e più importanti per lui dalle prove nessuno esente in questa vita piccola parentesi su questo discorso di fondo benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò oggi quante persone maledicono il prossimo i figli di Dio lo fanno tutti i giorni i maghi che fanno fatture maledicono le persone maledicono dicono il male pregano invocando il diavolo a danno delle persone con le parole e con i loro ritmi questi che fanno così colpendo i figli di Dio di spalle innocentemente si mettono sotto la maledizione divina benedirò coloro che ti benediranno maledirò coloro che ti malediranno questa chiusa parentesi per dire come funzionano queste cose bene vorrei ancora un pochino più approfondire questo fatto della fede capitolo 4 della letta dei romani prendetelo per favore capitolo 4 lettere romani san paolo fa un discorso molto importante per gli ebrei e per noi oggi dice che la salvezza non si riceve per le opere che uno fa ma per la fede e per le opere lui non intendeva gli atti di carità intendeva tutte quelle regole e regoline che erano presenti nella legge dell'antico vestamento e che i farisei con tanto zelo cercavano di realizzare nel modo migliore possibile capitolo 4 lettere romani la lettere romani è la prima lettera del nuovo testamento che si trova dopo gli atti degli apostoli e della più lunga e quella meglio strutturata riguardo proprio l'annuncio dell'Evangelo allora vi leggo alcuni pezzi per farvi capire per detto primo che cosa diremo dunque di Abramo nostro progenitore secondo la carne che cosa ha ottenuto se infatti Abramo è stato giustificato per le opere a di che gloriarsi ma non davanti a Dio ora che cosa dice la scrittura Abramo credetti a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia a chi lavora il salario non viene calcolato come dono ma come debito a chi invece non lavora ma crede in colui che giustifica l'empio la sua fede gli viene accreditata come giustizia se uno lavora c'è contratto 8 ore di lavoro al giorno per 30 giorni risultato 1000 euro al mese di stipendio quello è un debito da parte del dottore del lavoro ai confronti dell'operaio che ha prestato questo servizio con Dio nessuno può esigere un debito che Lui avrebbe nei nostri confronti Dio non sarà mai in debito nei nostri confronti anche se lavoriamo tanto per Lui Dio quello che ci dà ci lo dà esclusivamente per dono e noi siamo chiamati a credere che Lui ci ama e per suo dono ci dà la salvezza e tutto il resto che riguarda questa realtà allora potete leggerlo tutto a casa io concludo con il versetto 18 sempre lettera ai Romani capitolo quarto dice così San Paolo Abramo credette saldo nella speranza contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli come gli era stato detto così sarà la tua discendenza egli non vacillò nella fede pur vedendo già come è morto il proprio corpo aveva circa cento anni è morto il seno di Sara di fronte a promessa di Dio non esitò per incredulità ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento ecco perché gli fu accreditato come giustizia e poi ancora più fortemente e non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato ma anche per noi ai quali deve essere accreditato a noi che crediamo in colui che ha recitato Gesù Cristo dai morti di nostro Signore il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe è stato risuscitato per la nostra giustificazione per la nostra salvezza allora vediamo appunto in base a queste parole meglio l'esercitazione di Abramo quando qui stiamo parlando proprio della prima volta l'incontro con Dio e l'ascolto della promessa fatta agli da Dio Dio promisse ad Abramo un figlio ma lui sapeva che Sara era sterile lui aveva 75 anni Sara poco di meno aveva da giovane Sara era molto bella come donna quindi era sposata perché era cotto di lei però era sterile e quindi durante tutto il tempo della fertilità non ha avuto figli poi è arrivata la menopausa chiuso discorso di figli poi arriva Dio che gli dice tu vorrei un figlio lui le cose della vita queste fondamentali le conosceva sapeva che la moglie non poteva più avere figli non le poteva avere per doppio motivo perché era sterile perché è passata la menopausa quindi lui poteva dire a Dio in base alle leggi di natura dice ma che mi stai a dire quello che tu mi prometti è impossibile realizzarsi non posso avere figli allora guardate lo stile di Dio Dio quando ci promette una cosa ci promette è sempre una cosa impossibile a realizzarsi umanamente perché se fosse possibile realizzarsi con le forze umane la facciamo da soli ci aiuterà qualcuno a realizzarla non abbiamo bisogno di Dio Dio non esiste neanche in quel modo l'esclusione di Dio però potrebbe essere interpretata in questo modo Dio allora perché sia chiaro che è stato lui a fare quella grazia lui a realizzare quel miracolo lui a mantenere quella parola ci promette sempre cose impossibili a realizzarsi con le nostre forze con le nostre possibilità quindi la fede significa credere che quello che è impossibile da realizzarsi in forza della promessa di Dio si radizzerà Abramo è stato bravo perché ha creduto durante il suo cammino e lo vedremo tappa per tappa nei futuri incontri che avrebbe avuto il figlio Sara Sara non ci credeva Sara arrivate per ultima su questa cosa lui pian pianino situazione per situazione ha realizzato la fede nella promessa di Dio e allora ecco dice tu hai creduto metito il figlio accreditato secondo giustizia come era giusto cioè che fosse accreditato da Abramo il dono promesso allora perché la fede si realizzi bisogna imparare a sperare contro ogni speranza sarebbe a dire le speranze umane sono finite spera in Dio umanamente ti dicono che ti devi rassegnare perché non c'è nessuna possibilità di salvezza spera in Dio se impari a sperare sopra le situazioni umane non realizzabili allora sei degno che quello che ha detto Dio sia nella tua vita capite con questa chiave di lettura perché Gesù Cristo diceva ai malati dopo la guarigione la tua fede ti ha salvato il cieco nato quello che abbiamo qualche domenica fa ascoltato nei Vangeli della Domenica era nato cieco era impossibile che lui vedesse ma lui ha sperato tantissimo di poter vedere sopra ogni speranza umana e sopra quello che gli dicevano gli amici che gli stavano intorno che si doveva rassegnare doveva lasciare perdere lui non poteva vedere era cieco era nato cieco e ha creduto che Dio gli potesse attraverso quel uomo fargli un miracolo e finché non ha ottenuto non ha smesso di gridare lui ha creduto all'amore di Dio per lui ha creduto che nonostante il cieco potesse tornare a vedere e siccome ha fatto di tutto perché questo si realizzasse ha incontinuato a gridare quando Gesù Cristo non si fermava fatto portare di fronte a faccia a faccia con Gesù Cristo allora Gesù Cristo la tua fede ti ha salvato se non avessi avuto fede in me e probabilmente lì c'erano altri malati intorno a questo cieco o altri ciechi addirittura questi altri magari sono brava gente persone che hanno sofferto tutta la vita meritivo di tanto aiuto ma nessuno ha creduto che io li potevo guarire non sono guariti quel cieco sì la tua fede ti ha salvato vedete che nel campo cristiano la fede diventa una delle cose in assoluto tra le più importanti la prima in assoluto è l'amore ma la fede e la speranza subito dopo vengono sono le cose che smuovono la nostra esperienza con Dio senza fede non si può fare niente in campo cristiano siamo falliti in partenza con la fede piena smuoviamo le montagne guariscono i malati vengono liberati i posseduti vengono convertiti i peccatori avvengono tutte le grazie che devono avvenire in questo mondo il diavolo viene sconfitto in tutti gli aspetti in cui lui ha rovinato la vita umana presente allora Abramo si è salvato ha avuto il figlio ha avuto la terra perché ha creduto alla promessa di Dio e vedete come è fatto Dio altra cosa Dio poteva dire beh a me che me ne frega che Abramo ha già il figlio non ce l'ha tante famiglie non c'ha di figli tante coppie giovani non partoriscono Dio si è interessato della sofferente di Abramo si è smosso verso di lui voleva realizzare quello che Abramo desiderava Dio soffriva di vedere Abramo che soffriva senza figli senza terra e si è scumulato nel cielo per potergli ridonare così è fatto Dio torno a dire se Abramo non avesse afferrato Dio che gli parlava il passaggio di Dio che cosa succedeva per lui restare senza Dio significa restare nel proprio pantano nel proprio pozzo nero senza possibilità di salvezza la vita di Abramo sempre stata veschina brutta insoddisfacente moriva arrabbiato contro tutte che vita ho fatto che schifo di vita così ve l'è ben detto come dico tantesime persone oggi che schifo di vita non è questa la vita che vorrei vivere e mi tocca vivere una vita così perché questo quanto è importante afferrare Dio che parla voi siete qui per fare sta catechesi state afferrando Dio che vi parla l'invito l'hanno ricevuto tantissime persone l'hanno rifutato perché preferiscono star a vedere la partita della Champions nella tv o al bar a giocare a carte o a casa a vedere un telefilm non so che cosa ma che vita meschina è questa dove trovi Dio nelle cose nelle faccende che si vanno tutti i giorni ti riduci a una vita piatta intoddisfagente Dio lo trovi laddove lui ti si manifesta Dio lo trovi laddove lui ti chiama da andare Dio lo trovi nell'ascolto nella realizzazione della sua promessa della sua parola ecco allora mi ho fatto accennato il primo incontro di Abramo con la parola di Dio e questo vedete non è un'emozione quanto sono stupide quelle persone che parlano della fede in termini emotivi l'emozione è una cosa che ti sconvolge quando è finita è finita questa cosa qui per Abramo varrà per tutta la sua vita terrena e poi per l'eternità non è un'emozione che prende e lo lascia lì da poco poco tempo dopo è una cosa profonda che cambia tutta la sua esistenza è quella di cui abbiamo bisogno noi non di emozioni ma di cose vere forti e che durino per sempre ecco benissimo esegrazione in piedi signore ti preghiamo oh quanto abbiamo bisogno della fede tutti quanti quanto abbiamo bisogno di diventare stabili forti con la fede di ferro di fronte a tante situazioni di morte di esistenza ti preghiamo signore Dio fa che la nostra fede difenti fede vera tosta incrollabile come la fede di Abramo Abramo è partito da questa fede tenera tenera ed è diventato una roccia per tutta l'umanità conosciuta proprio per questa grande realtà e così avvenga per ciascuno di noi guariscici nella fede ripristine in noi la fede come deve essere di per natura la fede in te oh signore nella tua parola e nell'impimento delle tue promesse fatte per il nostro bene verici Dio tutti quanti quelli che hanno ascoltato questa parola perché diventi vita della loro vita nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo Amen